Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa rosa, la storia di un afroamericano e una giovane donna bianca e ricca che iniziano una relazione clandestina che sfida le norme sociali e le aspettative dell'epoca. La trama si svolge in un contesto in cui le relazioni interraziali sono altamente sconvenienti agli occhi della società americana dell'epoca. Il testo offre un'immersione autentica nella società americana degli anni 50, evidenziando le tensioni razziali e rigidi codici sociali dell'epoca. Questo romanzo ti permette di comprendere meglio le sfide e le discriminazioni che le persone di colore affrontavano in quel periodo. La trama del libro La strettoia della scrittrice Anne Petrie, pubblicato dalla casa editrice Mondadori, è la seguente. È sabato, poco dopo la mezzanotte, e una fitta nebbia avvolge Denarros, il quartiere di una piccola cittadina del Connecticut, sulle rive del fiume Hawaii. Link, un afroamericano di bell'aspetto, è sul molo che costeggia il fiume e si imbatte improvvisamente in Camilo, una giovane donna inseguita da un malintenzionato. Link la mette in salvo e poco dopo, alla luce soffusa di un bar lì vicino, scopre che Camilo è un'affascinante donna bianca ricca e sposata che ha deciso di visitare il quartiere per ingannare la noia della sua vita privilegiata. I due iniziano a incontrarsi furtivamente, violando i rigidi codici sociali e alimentando una passione travolgente, una relazione clandestina tra due persone che agli occhi della società americana dell'epoca non si sarebbero mai dovute frequentare. Siamo infatti nei primi anni cinquanta e Denarros è abitato dalla comunità afroamericana, insediatasi nelle sue casette di legno e mattoni, tra i bar pieni di fumo gestiti dal boss Bill Hod, un luogo popolato quasi esclusivamente da neri, confinati in una vera e propria strettoia che li priva di un futuro libero dalla mancanza di prospettive e dai conflitti derivati dall'odio razziale. A Denarros abitano anche la 70 anni Abby e il figlio adottivo Link, che nonostante la laurea e un passato in marina ha deciso di lavorare in uno dei locali di Bill. Una storia appassionante e dolorosa che racconta la società americana del tempo, l'opera più matura di una scrittrice meritatamente dimenticata, La strettoia, romanzo pubblicato nel 1953 e inedito fino a oggi in Italia, è una preziosa e importante riscoperta letteraria che temi trattati rendono incredibilmente attuali. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami per favore a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.